Chi vuole suonare è solo Paganini, non può avere spazio, perché c'è il tempo di Paganini e c'è il tempo delle note lunghe e c'è il tempo di prendersi la responsabilità che quelle note sono uguali a quelle del primo violino, che tu sia ultimo e sai una cosa bellissima, la ragione per cui non suono più, un po' perché, però la ragione per cui non suono più, al di là del dolore fisico, suono raramente, è sempre solo perché vi chiedo, ve lo chiedo proprio intimamente, smettetela di scrivermi che vorreste vedermi il pianoforte, se mi volete bene, smettetela, perché non sapete la sofferenza che mi provoca questo, perché non posso, ma non è che non posso, certo che posso e tutti poi vi piace e vi vengono i lacrimoni, evviva, ma vi vengono i lacrimoni perché ci sono io che sto male, questa è la realtà, è tremenda, ma la ragione per cui io non suono è che queste due dita non rispondono più bene e quindi non posso dare alla musica abbastanza e c'è poco che quando dico questa frase e vedo già una nuvoletta, sì, ma tu dai tanto altro, no, devo farle tutte le note, se mi involvo nel momento in cui saprò che non riuscirò più a gestire un'orchestra, smetterò anche di dirigere, perché il rispetto, eccolo qua, stima e affetto sono quelli che portano al rispetto, questa è la realtà.